Bentornati su Quelli che viene sul tubo, questa sera per parlarvi della grandissima partita, del grandissimo derby di uno dei più belli che abbiamo visto negli ultimi 5-6 anni di altissimo livello rispetto agli scorsi ovvero la partita tra Inter e Milan e quindi il derby di Milano, partita che finisce con un risultato di 3-2 in favore dei nerazzulli una delle partite più belle da questo inizio stagione e se non, anzi sicuramente, la partita più bella di questa giornata di gran lunga e superiore, più ricca di emozioni rispetto agli altri big match di giornata partita quindi ricca di emozioni, ma andiamo subito a parlare della partita partendo dall'atteggiamento che non mi è venuto affatto di inizio gara da parte del Milan, Milan quindi Montella che si schiera con una difesa 5, linea molto bassa e un binomio leggero in avanti con Suso al fianco di Andre Silva partita quindi del Milan con un atteggiamento non solo difensivista ma soprattutto un atteggiamento a livello mentale con un po' di paura nella giocata, non si cercava troppo la giocata cercavano di stare molto attenti all'Inter, molto bassi, cercavano di contenere l'avversario quindi l'atteggiamento secondo me sbagliatissimo e l'Inter in questo caso è stata favorita perché è riuscita a fare praticamente quello che voleva all'interno del primo tempo ha avuto una gestione ordinaria del pallone, ha creato occasioni importanti infatti già nei primi 10-15 minuti, se non sbaglio, arriva la traversa di Candreva di uno strepitoso Candreva stasera e poi successivamente arriva un gran goal da parte di Cardi grazie all'assist di Candreva, uno splendido assist di Candreva dove però secondo me ci sono anche le colpe di Romagnoli che non è chiuso per il cross e di Bonucci che si è lasciato anticipare dai Cardi che però secondo me ha fatto un grandissimo gol non tanto per come impatta il pallone ma per come anticipa con la cattivere, con quel sano agonismo che il capitano riesce a dare in alcune occasioni e che stasera ha fatto un anticipo straordinato su Bonucci mettendo la palla in rete portando in vantaggio la squadra nera-azzurra nera-azzurra che secondo me nel primo tempo meritavano anche qualcosina in più dell'1-0 un 1-0 un po' stretto per quanto visto nel primo tempo perché il Milan era totalmente fuori dal campo non era mentalmente in partita, non era fisicamente in partita e non era tatticamente in partita secondo tempo dove invece succede qualcosa il Milan nell'intervallo cambia praticamente tutto Montella decide di passare praticamente dalla difesa a 3 quindi avanzando un po' gli esterni che erano Borini e Rodriguez e sosseguendo che si è peggiore in campo secondo me per quanto riguarda il Milan almeno per quanto riguarda il primo tempo quindi peggiore in campo e sosseguendo che si è con Cutrone che va a prendere il posto di Suso in attacco e Suso viene in retrocesso come seconda punta grandissimo quindi l'avvio del Milan che non me l'aspettavo sinceramente visto il primo tempo pensavo che sarebbe continuata così la partita con l'Inter che schiacciava il Milan invece no, tutto il contrario Milan che inizia a schiacciare l'Inter e nei primi 10 minuti crea tantissime occasioni pareggiando quelle dell'Inter nel primo tempo addirittura superando le occasioni create dall'Inter nel primo tempo e raggiunge il Parigio con uno strepitoso gol di Suso che fa una finta mandando dei bagni permettetemi il termine sia Perisic che Gagliardini Gagliardini forse sicuramente uno dei peggiori in campo che quando riguarda l'Inter quindi gran gol di Suso Andanovic non raggiunge il pallone e si va sull'1-1 Inter che però non demorde nonostante la pressione offensiva e il buon momento del Milan proprio nel momento migliore del Milan l'Inter grazie a uno strepitoso Icardi questa sera che va a recuperare un pallone nella metà campo offensiva io solitamente sono uno che dice che Icardi non partecipa troppo alla manovra a recuperare palla ma questa sera mi ha smentito recuperando un grandissimo pallone nella metà campo offensiva e dando la palla a Perisic che poi ricrossa e arriva il gol strepitoso di Icardi una coordinazione un bellissimo gol perché non tanto per l'impatto del pallone come nel primo tempo ma per quanto riguarda la coordinazione arriva su un pallone già sa dove sta per arrivare il pallone nonostante lui era posizionato male e riesce a coordinarsi in una grandissima giocata un grandissimo centravanti e insaccare il pallone alle spalle di Donnarumma grandissimo gol di Icardi che porta in vantaggio nuovamente l'Inter quindi l'Inter in vantaggio sul 2-1 però Milan che continua a spingere continua a creare occasioni continua ad essere padrone del campo inizia a salire anche Bonucci soprattutto come difensore centrale quindi inizia a salire i difensori centrali inizia a spingere il Milan parecchio a pressare proprio l'Inter a chiudere l'Inter nella prova metà campo e arriva infatti conseguente a questo atteggiamento il secondo gol del Milan su assist di uno strepitoso Borini che si è sacrificato come sapete lui non è un terzino si è sacrificato per tutta la partita facendo avanti e indietro e propizzando quest'assist per buonaventura anche se probabilmente l'autogol sfortunato di Andanovic tanti complimenti comunque a quest'ultimo nonostante l'episodio sfortunato dell'autogol è sicuramente un grandissimo portiere uno dei portieri più in forma degli ultimi due o tre anni secondo me sul panorama mondiale per quanto riguarda il panorama mondiale è mondiale grandissimo portiere che ogni partita riesce con un paio di interventi a salvare la propria squadra e anche stasera ci mette la manuna e riesce a salvare su un paio di occasioni propizie per il Milan comunque nonostante ciò il risultato sul 2-2 ma verso la fine partita e Milan che si schiera se non sbaglio anche con la difesa a quattro continua a spingere a creare occasioni l'Inter approfitta del fatto che la squadra avversaria sia molto offensiva approfittando di qualche contropiede quindi creando qualche occasione in contropiede non sempre pericoloso ma verso il finale di partita su un'occasione su un calcio d'angolo praticamente dopo un contropiede dell'Inter arriva un calcio d'angolo sul cross in mezzo palla che va qua sfiora la porta ma durante questa deviazione di testa da parte di un giocatore dell'Inter non mi ricordo il nome arriva un fallo banalissimo stupido di Rodriguez che per questo fallo si guadagna il premio di peggiore in campo fa un fallo sicuramente stupido portando quindi a rigore atterrando Cagliardini se non erro e quindi portando a rigore dove Icardi fa 3-2 partita che qui si chiude nonostante le ultime tentative di sperare da parte del Milan sarà addirittura anche Donnarumma ma comunque il Milan perde 3-2 non mi sento di dare tutte le colpe a Montella perché Montella si ha fatto un primo tempo ha schierato la squadra dal modo più sbagliato secondo me però ha dimostrato che i suoi giocatori possono cambiare atteggiamento e hanno tanto da dimostrare secondo me può ancora competere se non per la Champions sicuramente per l'Europa League quindi la squadra bisogna trovare un po' l'amalgama Montella dovrà lavorare su questo spero non lo cacciino ancora qualcosina da dimostrare perché secondo me è un'ottima allenatura e secondo me è solo un problema di testa dei giocatori che hanno bisogno un po' di trovare questa amalgama tra di loro e peggiori in campo per quanto riguarda il Milan oltre ai citati già che si è Rodriguez aggiungerei anche un non grandissimo Bonucci che sembra un po' lontano parente di quello dei bianconieri mentre per quanto riguarda l'Inter sicuramente migliori in campo Icardi partita strepitosa Candrea fin quando era in campo e poi successivamente direi aggiungerei anche Andanovic e poi peggiori in campo sicuramente sono stati per quanto riguarda almeno il primo tempo sicuramente Miranda e poi successivamente andrei a mettere sicuramente Gagliardini che non ha fatto una prestazione di grandissimo livello diciamo comunque un'idea più spettacolare che abbiamo mai visto partita che forse sarebbe stato il risultato più giusto un pareggio se non la vittoria del Milan a meno per quanto riguarda le occasioni create nella totalità della partita ma per quanto riguarda l'atteggiamento dimostrato dal Milan nel primo tempo che praticamente era senza c'è non ha partecipato alla partita mentre l'Inter nonostante la sofferenza è riuscita a creare occasioni importanti quindi dal punto di vista dell'atteggiamento secondo me il risultato è giusto quindi vittoria tra virgolette meritata con riserva da parte dell'Inter che adesso può puntare a traguardi importanti quindi stando dietro al Napoli correndo dietro al Napoli può ancora sognare lo scudetto come anche Roma come anche Roma Juventus e per appunto la Lazio che ha fatto una grandissima partita ieri comunque questo è tutto uno dei derby più belli che abbiamo mai visto ricordatelo scrivetelo nei commenti fate un commentino anche voi su questa bellissima partita mi piacerebbe quindi avere un po' di dialogo con voi all'interno dei commenti per parlare di queste partite e quindi diciamo condividete un mi piace vabbè è una solita cosa un mi piace un commentino raga ci vediamo alla prossima settimana con le prossime partite bocca al lupo crepi no ciao